Costruite tra il 1962 e il 1975, le vele di Scampia, da progetto di edilizia popolare residenziale nella zona est di Napoli, sono presto diventate un esempio di degrado urbano e una terra di nessuno. Periferia estrema in tutti i sensi, gestita e controllata dalla malavita. Droga, armi, latitanti e boss della camorra hanno ispirato romanzi e film che hanno finito per etichettare definitivamente tutta Scampia come un quartiere difficile e pericoloso. Sette i palazzoni costruiti in oltre dieci anni di lavori terminati nel 1975, quattro di questi nel tempo sono stati demoliti seguendo un ambizioso progetto di riqualificazione dell'intero quartiere, l'ultima vela a venire giù, la verde, nel febbraio del 2020. Nel marzo del 2015 anche Papa Francesco, da sempre attento alle periferie, anche quelle più vicine e conosciute, ha voluto visitare proprio Scampia e le sue vele, immergendosi nell'umanità della sua gente. Lo sappiamo, chi prende volontariamente la via del male ruba un pezzo di speranza, guadagna qualcosina ma ruba speranza a lui stesso, agli altri, alla società. Altre due vele saranno demolite nei prossimi anni, ne rimarrà solo una a preservare la memoria di quello che fu.